Buongiorno! Je m'appelle Andréa Sì, ma il francese non serve un tubo Proviamo il migliere Prendiamo l'aereo, prendiamo l'aereo perché non ci lascio più Bom, dove andiamo? Allora, Asia, Africa, America No, 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 troppo caldo Oggi un mio del caos Prendiamo l'aereo, prendiamo l'aereo No, 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 no Scusi, sorry Sorry Sorry, sorry 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 No, no, no Sorry India No, no, no No, no 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 L'america L'America! L'America! Io vorrei andare in America! Quanto ci mettiamo? 5 minuti? Ce la facciamo in 5 minuti? Io lo so! Oddio! Questo? Sarri! Questo può essere solo francese, guarda come se la tira! No! 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 America, francese! No! 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 Ma cosa è arrivata? No! No!